E' arrivata pochi istanti fa la notizia, Cosimo Tedesco è deceduto all'ospedale Perrino di Brindisi, quindi qui in Piazza Raffaello è stato commesso un omicidio e per di più le condizioni del figlio Luca che dalle prime notizie sembravano essere poco gravi, in realtà sono particolarmente critiche e dunque la situazione diventa sempre più preoccupante. E' ancora avvolta nel mistero la dinamica dell'agguato perché nella palazzina che vedete al civico 22 di Piazza Raffaello non abitavano né Cosimo né Luca Tedesco, quindi bisogna appurare per quale motivo si trovassero qui intorno alle 12.30. La guata è avvenuta all'interno di quel portone, sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco e i due uomini sono caduti, sono stati poi soccorsi e trasportati in ospedale per Cosimo Tedesco nonostante il tentativo dei sanitari di salvarlo, non c'è stato nulla da fare.